Contrario al coprifuoco, ma consapevole che sia necessario far ripartire il lavoro nel rispetto delle regole, di tutte le regole scritte e non scritte. Il presidente di Confcommercio Belluno sui vaccini è esplicito. Avremo i vaccini e tutti devono farli. Io veramente lancio un messaggio. Chi non li fa, non fa un interesse né a se stesso né alla collettività. E quindi venga anche i licenziamenti di chi non vuole farlo. Chi non vuole vaccinarsi non venga neanche assunto. È una questione di sopravvivenza, dice Doglioni, che snocciola dati impressionanti sulle perdite patite dal comparto a livello regionale. 9 milioni di presenze in meno dalla Germania, circa 3 dall'Austria, azzerato il turismo dalla Russia, dall'America e dalla Cina. Significa persone con una capacità di spesa elevata, la cui assenza si è fatta sentire pesantemente. E noi abbiamo un grosso problema, anche nel Veneto, di una povertà relativa, ma soprattutto oggi anche di una povertà assoluta. Di chi lavorava in questi ambienti e che da un anno percepisce uno stipendio molto limitato e con delle difficoltà. Per la ripartenza serve chiarezza normativa e comprensione delle situazioni diverse dei territori. Ma non possiamo mangiare di fuori. È nevicato anche ieri sera, è tanto per inciso.